Allora, cimentiamoci con l'implementazione di cui parlavamo prima, solo per quanto riguarda la soluzione, io questa parte qua sul database lo spostate in un branch diverso che chiamate database, quindi quando trovate su GitHub questo esercizio c'è il branch main o master che contiene solamente il testo di questo libretto vuoti, c'è il branch soluzione che contiene la soluzione dell'arcizio della settimana precedente e c'è il branch database che contiene il codice che facciamo oggi così non mescoliamo le due cose visto che stiamo riorganizzando il codice. Allora, proviamo prima a fare una cosa semplice e indipendente, per ragioni di ordine io mi creo un altro package dentro la classe it, polito, tdp eccetera che chiamerò db per semplicità, it, polito, tdp, poi c'è il nome del progetto che è il libretto, db, database, quindi ci mettiamo qua dentro le operazioni che facciamo col database, quindi li teniamo separate rispetto al model, separate rispetto al controller. It, polito, tdp, libretto, uguale, anziché punto model la farò punto db, database. E quindi creo le classi qua dentro. Allora, facciamo una prima classe di prova, poi dopo vediamo dove spostare le istruzioni. Facciamo una prima classe in cui semplicemente leggiamo questi tre voti e li stampiamo a video, senza pensare alla classe libretto o altre cose, ok? Quindi dentro questo db fatemi fare una prima classe di prova che abbia il suo bel main, così la possiamo provare da sola, no? Allora, cosa ci dicono le slide sul JDBC? Ci dicono che qui semplicemente facciamo un piccolo main di prova che si collega il database e stampa i dati, giusto per familiarizzarci, poi andremo a creare poi dei metodi opportuni dentro la classe libretto, eccetera. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, abbiamo detto è, seguiamo i sei passi mentalmente, passo uno è definire la JDBCURL, l'indirizzo, lo stringa di connessione, e la stringa di connessione è JDBC, due punti MySQL, due punti barra barra, attenzione che è JDBC, ho visto gente strapparsi i capelli perché dopo un'ora di debugging aveva scritto JBDC, non aveva scambiato la B con la D, purtroppo c'è, errori strani e uno dice, poi localhost, se non dobbiamo cambiare la porta va bene così, il nome del database, il nome del database si chiama libretto voti, poi i parametri sono seguiti da un punto interrogativo, user uguale root, però ho solo quell'utente lì, secondo parametro password, uguale, ho messo anche root, user e password, io in questo momento non mi ricordo mai se si scrive user o username, quindi vado sempre a guardare, user, e invece la password è password per esteso, non pass e basta, quindi questa dovrebbe essere la stringa di connessione per il nostro database che abbiamo appena creato, adesso mi collego, quindi creo un oggetto connessione chiedendo alla classe driver manager di crearmi e quindi darmi una connessione, get connection, con questa JDBC URL, punto e virgola, adesso connection devo ovviamente importarla, import connection, fate attenzione qua, adesso è scritto piccolo, però fate attenzione a dove cliccate, import connection da java.sql, oppure la riga sotto mi dice import connection da org mariadb.jdbc, ovviamente da java.sql, ok? Non importate mai nulla da mariadb o da mysql, perché vanificherebbe tutto lo sforzo che stiamo facendo, quindi noi abbiamo importato java.sql.connection, java.sql.driver manager e abbiamo questa istruzione, mi dà ancora un errore questo codice perché il get connection genera un'eccezione e quindi non lo posso chiamare se non attraverso un try catch. Per ora lui mi obbliga a, diciamo, tutti i metodi della libreria di JDBC possono generare un'eccezione SQL exception, tutti. E quindi tutto il codice che scriviamo sarà dentro un blocco di questo genere. Anche poi dopo gli statement, gli execute query, per in qualunque momento qualcosa può andare storpo. Allora, cominciamo a provare a eseguire questo, vediamo cosa succede, se io faccio run di questo prova, in teoria non succede nulla, no, non è vero, succede che non mi ha trovato no suitable driver found, perché mi vuoi male. eppure questo c'è, per trovare a eseguire MariaDB. ok, allora, sì, con MariaDB funziona, con MySQL no. Questo dipende dalla versione del driver. Mi è venuto in mente adesso che a un certo punto hanno litigato i due, e quindi quelli di MySQL hanno detto, sì, però il tuo driver non deve rispondere alle query tipo MySQL, ma solo a MariaDB. Quindi le versioni vecchie del driver, infatti fino all'anno scorso c'era la versione 2, rispondevano sia a MariaDB che a MySQL. Le versioni nuove, evidentemente, il driver di MariaDB risponde solamente a MariaDB, se li metto MySQL, lui dice non lo trova. Ok, quindi questo dipende, diciamo così, è una regressione dovuta alle versioni nuove. Cioè le versioni nuove fanno meno cose rispetto a quelle precedenti, ma per motivi, immagino, anche legali. Quindi, mettendo questa, usando MariaDB, mettendo questa stringa dovrebbe funzionare, anche con le versioni recenti del database. Vedete subito quello che succede, cioè quando eseguo questo, lui mi ha fatto un errore, facciamo sempre molta attenzione a leggere questi errori. Ad esempio, se io sbaglio la password, l'errore è la prima riga, è quella che conta, poi di solito l'errore è sempre a destra. Access denied for user. Ok? Quindi ho sbagliato la password. Se io invece sbagliassi il nome del database, mi dà un errore diverso che è unknown database. Che è diverso ancora da non potermi collegare. Ad esempio, se anziché localhost mettiamo 127.001, dovrebbe funzionare. Se invece mettiamo, qui ho messo male i punti, però anziché uno mettessi un'altra cosa, lui mi dovrebbe dire che non riesce a collegarsi. No, stranamente non me lo dice. Vabbè. E mettiamolo a calosti. Comunque il messaggio è, i messaggi d'errore delle SQL exceptions sono sempre molto precisi, diciamo così, puntuali. Quindi conviene sempre leggerli per bene. Questi warning qui, per il momento non preoccupiamocene. Nel senso che è un meccanismo interno di logging degli errori interno alla classe, al JDBC. E mi dice che manca una file di configurazione e quindi lui usa per default il logging sulla console. Va bene, non so perché mi segnali come errori, ma non è un problema. Continua a funzionare, semplicemente lui dice il logging non te lo faccio, te lo faccio sulla console. Ma sulla parte di logging lo vedremo bene o quando faremo più avanti i data source, che è un'estensione del driver manager. Per il momento accettiamo che ci siano questi messaggi. Ok. Allora, siamo riusciti, penso, a avere una connessione. Dico penso perché eseguendo l'ultima versione non mi stampa nulla, non mi stampa nessuna eccezione. Quindi vuol dire che questa istruzione è stata eseguita correttamente. E quindi posso provare a fare un'interrogazione. Come? Mi creo un oggetto statement. Uguale, anche qua, statement, la prima volta devo importare. Attenzione che ci sono tante classi che si chiamano statement. Noi dobbiamo prendere quella da Java.sql, che tra l'altro non è una classe ma un'interfaccia. Tutte queste sono tutte interfacce perché sappiamo che l'implementazione è nascosta. E lo chiamo st per abitudine, lo statement me lo faccio dare dalla connessione. Attraverso il metodo di factory createStainment. Quindi createStainment mi restituisce un oggetto di tipo statement st, vuoto. A questo punto userò lo statement per interrogare il database. Voglio interrogare i dati di questa tabella qua, che abbiamo prima, che avevamo prima. Corso, punti, data. E per il momento li voglio tutti. Quindi qual è la query che devo scrivere? Beh, allora per abitudine io prima la query me la scrivo qua, così vedo gli errori, li posso correggere interattivamente. Una volta che ce l'ho pronta faccio copia e incolla, la porto in Java. Quindi sarà un select. set, le colonne sono corso, punti, data, from, data minuscole. From, il nome della tabella della colonna è vuoto. Il nome della tabella è vuoto. Quindi se eseguo questa query mi dà questo risultato. Non ho metto select asterisco per essere sicuro di quali sono le colonne che scelgo e in che ordine le voglio vedere. Prefisco essere un pochino più ridondante e un pochino più pedante e non rischiare di prendere una colonna al posto di un'altra. Copia. E a questo punto nel torno in Java e definisco una stringa SQL uguale a questa cosa qua. Copia e incolla. Adesso Eclipse quando faccio incolla dentro una stringa che va a capo, mi va a capo con la concatenazione e mi mette qua questi caratteri che sono il carattere di a capo in pratica, no? Che noi sostituiamo, togliamo, sostituiamo con uno spazio. Questa è la stringa che vogliamo eseguire. Ok? Attenzione a mettere uno spazio qua e non a cancellare tutto. Questo è un altro errore frequente, quando uno si trasporta una query complicata in Java, poi toglie il carattere di controllo. Questo è un errore. Perché? Ma perché se la immaginate concatenata, questa stringa abbiamo data e poi la f di from attaccata, appiccicata. E quindi lui non capisce, visto che vede la stringa tutta intera, non capisce la sintassi. Ok? Quindi ricordiamoci sempre che quando abbiamo una stringa, una query, diciamo così, palmata su più righe, ogni riga deve finire con un carattere di spazio. Una volta che ho questa, che è semplicemente una stringa, la devo eseguire. Quindi avrò un result set, anche qua importandolo dalla Java.sql, chiamano res per result set, uguale. Allora, il risultato lo ottengo chiedendolo lo statement. Statement, caro statement, per favore puoi eseguire questa query? O qui c'è sempre dentro il try catch, perché ciascuna di queste cose potrebbe fallire per motivi diversi. Proviamo a fare un run, che se tutto va bene non succede nulla, non mi generano eccezioni. Ok, quindi finora va bene. Se io provassi a togliere questo spazio perché magari l'ho dimenticato, vedete che quando faccio il run lui mi dà un'eccezione che è del tipo strano. hanno un column corso in field list, dice ma perché? E allora diventiamo magari pazzi per 20 minuti perché stiamo controllando il nome della colonna corso che non esiste. Cioè esiste sì, è corretto, perché mi dà questo errore? Mi dà questo errore perché purtroppo lui non trova la tabella voto. Lui legge corso, punti, data from tutto attaccato e fa finta che sia il nome di una colonna e voto sarebbe il nome nuovo che diamo a quella colonna, secondo la sintassi SQL. Non è mica colpa sua. E però non trovando la clausola from non sa da quale tabella andare a pescare colonne e quindi mi dà l'errore sulla prima colonna che incontra e dice sì, però non avendo la tabella non ho la colonna. In questo caso non è un messaggio d'errore particolarmente utile. Però dobbiamo sempre interpretarlo. Ok, adesso finalmente dovrei avere risultati. Allora dicevamo, il cursore dov'è? Il cursore che mi permette di accedere ai risultati è sulla riga prima della prima. Quindi devo almeno una volta chiamare il metodo next per poter accedere ai valori. Poi dovrò chiamare ripetutamente il metodo next fino a quando questo metodo next restituisce il valore falso. Quando restituisce il valore falso vuol dire che ho già visto l'ultima riga e mi sono posizionato su quella dopo l'ultima. Tutto questo ragionamento si sintetizza in un modo molto semplice. Così. Perché l'ho messo in un while, poiché ogni volta che va a valutare la condizione while valuta, chiama questo metodo next. Quindi la prima volta, prima di entrare per la prima volta, chiama next. E quindi la prima iterazione del corpo di questo while avverrà dopo che ho chiamato la prima volta next. Quindi quando sono sulla prima riga. Se c'è la prima riga. Se la prima riga non ci fosse, perché non ho risultati, next mi istituisce subito falso e non entro nel while. Nessun problema, nessun errore, nessun caso particolare da distrire. Se invece c'è almeno un elemento, io entro lì dentro. Elaborerò, come faccio tra un secondo, i dati di quella riga, della prima riga. E poi chiamo next una seconda volta e mi porterà sulla seconda riga. Andiamo avanti così. Immaginiamo di essere sull'ultima riga. Dopo che ho elaborato l'ultima riga e l'ho elaborata tutta, chiamerò ancora next una volta, che sposta il cursore fuori dopo l'ultima riga, ma restituisce falso e quindi esco dal while. Quindi quello che si è inventato con questo movimento strano del cursore non era poi così ubriaco, perché con lo stesso codice, senza nessun caso particolare, non devo fare nessuna if per gestire la prima riga, o per gestire l'ultima riga, o per gestire il caso in cui ci siano e non ci siano delle righe. Quindi alla fine è una cosa un po' strana, questo cursore, però molto comodo da questo punto di vista. Questo while verrà eseguito esattamente tante volte quante sono le righe, o zero o più. E cosa facciamo? Possiamo estrarre ad esempio il corso, chiedendo a result set dammi sotto forma di stringa il valore della colonna che si chiama corso della riga corrente. Io qua dentro vedo solamente una riga per volta. E poi posso avere un intero int punti, in cui chiedo a result set dammi sotto forma di intero il valore della riga corrente corrispondente alla colonna che si chiama punti. e poi posso estrarre la data. Non estrargo la data, perché dovrei spiegarvi qualcosa sulla conversione da date a local date che non voglio fare oggi. Ci basta queste qua, per il momento. e quindi posso stampare ad esempio print line corso più uguale più voto più punti ad esempio quindi per ciascuna riga estraggo i dati di quella riga e ne faccio qualcosa ancora più semplice che posso fare stamparli eccoli qua ovviamente sono saltati fuori in l'ordine che piaceva a lui perché una select non implica un ordine cioè noi li abbiamo inseriti in ordini diversi abbiamo prima inseriti tecniche poi analisi poi chimica e lui me li fa vedere in quest'ordine qua apparentemente in ordine alfabetico di corso ma non è detto forse perché il corso è un primary key quindi lui l'ha ordinato ma SQL SQL ragiona per insiemi quindi se io voglio volessi essere certo dell'ordine con cui vengono restituiti i risultati ci devo mettere un order by una clausola order by nella query altrimenti saltano fuori nell'ordine che vuole il database no? ma questo lavorando insiemi ragionando su insiemi il SQL la nozione di ordine non c'è se non solamente nella presentazione del risultato quindi se volessi essere sicuro che saltano fuori in ordine alfabetico dovrei nella query aggiungere in fondo order by corso crescente corso ask ask se no mi va bene così ovviamente questo l'ho stampato ma quello che vorrei fare davvero non è tanto stamparli ma metterli nel libretto metterli in una lista ma a questo punto non c'è nulla di male anziché stampare aggiungerli creare un nuovo oggetto voto v uguale new voto che si prende corso punti mettiamo un al per la data perché non abbiamo avuto voglia di capire come si estrae voto ovviamente sono in un package diverso quindi devo importarlo la classe voto dal model e questo v da solo non esiste ovviamente perché se facessi così lo salvo in una v ogni volta la creo creo un nuovo oggetto voto lo dimentico quindi se voglio salvarmi da qualche parte questi signori li dovrò mettere in una lista quindi tipicamente mi definirò una lista di voto java.util java.util.list voti uguale new array list sempre java.util così e poi farò un voti.add divi 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 qui mi sono fatto una lista alla buona poi noi abbiamo già la classe libretto che è più furba no? allora lo possiamo anche fare quindi alla fine potremmo avere anziché tutte queste print disordinate potremmo alla fine del ciclo while fare una print ad esempio o usare la lista voti e qua ovviamente mi mette queste cose qua sta usando il voto appunto to string quindi li stampa in quel formato la data è null ma vabbè poi se vogliamo la mettiamo a posto in realtà avevo fatto una promessa ma non l'ho mantenuta perché ho detto quando faccio la get connection mi ricordo sempre di scrivere close e non mi sono ricordato quindi adesso prima di uscire devo visto che qua non mi serve più alla fine del del ciclo while ho esaurito l'analisi di tutti i dati quindi in quel momento da questo momento in poi non mi serve più la connessione col database e quindi posso dire tranquillamente connection punto close close tanto i dati che mi servivano li ho messi dentro questa collection questa lista voti qui adesso sono in un main di prova ma tipicamente a questo punto qua farò return voti sarò dentro un metodo che fa la query e mi istituisce il risultato il risultato già sotto forma di collection di oggetti cioè come tutto il resto del programma ragiona e vuole vedere i dati il fatto è che qua dentro questo metodo stiamo facendo cose sporche tipo aprire socket gestire le eccezioni convertire dati prendere i dati uno per volta tutto questo è un segreto tra noi e JDBC quindi la regola che cerchiamo di darci è abbiamo fatto un package database DB apposta tutte le classi solo le classi che lavoreranno col database le mettiamo in questo package in nessun altro punto del programma ci sarà mai un import di JDBC di Java punto SQL tutto ciò che ha a fare con SQL lo releghiamo lì dentro quindi diventa una serie di classi di servizio di comodo che possiamo usare per per accedere per fare le operazioni che ci interessa fare sul database quindi questo è un file di prova che ci ha permesso di capire l'abc delle connessioni questo è un suo main ma in realtà ci farebbe comodo avere invece di un main che faccia delle cose una classe con dei metodi che il model può chiamare ricordate la nostra classe libretto lei nel suo costruttore creava la lista di voti vuota ecco sarebbe tanto carino che nella classe costruttore del libretto non creasse una lista vuota ma creasse una lista che contiene già i voti del database quindi la classe libretto il mio model avrà bisogno delle funzioni che gli offriamo noi che siamo nel package di accesso al database quindi questi metodi che quindi immaginate che questo package database è una classe di servizio rispetto alle esigenze del model mi dà i metodi per accedere ai dati in gergo si chiama DAO data access object cioè creiamo degli oggetti per accedere ai dati che sanno come far accedere ai dati non sanno perché non gli frega nulla del perché tu vuoi accedere ai dati cioè non hanno nozione della logica del programma di cosa il programma deve fare ci sono dei dati mi dai delle primitive per accedere e le primitive sono cercane uno cercali tutti modifica inserisci cancella poi indipendentemente dal perché vuoi inserire un dato a me non interessa quindi separiamo di nuovo la logica algoritmica che sta nel model dall'accesso ai dati che è una meccanica anche un po' antipatica perché è fatta di concatenazione di stringhe cose strane quindi noi creiamo una classe a questo punto non più la classe prova che il nome stesso dice quanto vivrà a lungo posso chiamarla voto DAO tanto per ricordarci chiamiamo DAO le classi che hanno quell'unico scopo data access object ci danno un oggetto per accedere ai dati potrei avere l'unica classe DAO per tutto il programma oppure se ho tante tabelle sono un database complicato con tanti dati magari faccio tante classi diciamo così con il ruolo di DAO per gestire il voto per gestire l'utente per gestire altre cose per non avere una classe unica con 100 metodi e quindi una classe di questo genere che metodi pubblici può avere beh in questo caso public lista di voto list voti questo potrebbe essere un metodo che implementiamo copiando dalla prova dal main c'è un metodo che dice dammi la lista di tutti i voti come sotto forma di lista di oggetti voti tutte le volte che il model ha bisogno della lista dei voti chiamo questo metodo questo metodo fa l'acquire del database e restituisce la lista poi potrebbe esserci un metodo di inserire public void create voto e vuole un oggetto di tipo voto allora gli passa un oggetto voto e lui lo inserisce nel database oppure ti do il nome di un corso e mi dici mi leggi i dati di quel corso lì quindi list voti me li da tutti ma io potrei avere un metodo che restituisce un voto solo create voto e gli passo percorso ad esempio cioè definisco i metodi di accesso ai miei dati in modo pulito questa signatura qua di questi metodi sono agnostiche rispetto a come sono memorizzati i dati nel database e come devo riuscire ad accedere qui sono rossi perché non ho importato java.util .list e model.voto tipicamente le operazioni che dà una classe DAO sono operazioni tipo crude non so se avete sentito questa sigla create read update delete a me non piace delete e ci aggiungo list quindi sarebbe cruel ma suona male ve lo anticipo già nella maggior parte dei giardizi che faremo beh a parte l'inizio che ci serve per impraticchirci il grosso del lavoro sarà list o search o qualcosa di questo genere noi quando lavoriamo con i dataset più grandi spesso non andiamo a modificare i dati semplicemente li analizziamo li usiamo e ci lavoriamo sopra quindi sarà abbastanza meno frequente creare oggetti molto più frequenti interrogare potrebbero esserci anche operazioni di search read voto va bene perché abbiamo detto che il nome del corso è una chiave primaria nella mia tabella quindi se ti do il nome di un corso alla fine mi istituisci un oggetto voto o nessuno ma se io volessi fare una ricerca per tutti i voti che ho dato che hanno avuto un certo punteggio maggiore o uguale di un certo punteggio allora avrò sarà più non è più un'operazione di lettura ma è più un'operazione di ricerca sarà un public void no non è void scusa lista di voti perché potrebbe essere più di uno e potrebbe essere un search voto con punti maggiore di un certo valore di punti no un metodo a cui ti do il punteggio e mi dà la lista dei voti che sono maggiori di quel punteggio che poi alla fine è la stessa di lista voti con una clausola UR più selettiva rispetto a darmi tutti quindi in questa classe qua andiamo a mettere tutte le primitive di accesso ai dati di cui il model potrà avere bisogno e l'implementazione di queste primitive com'è? beh è sempre lo stesso tipo noi avevamo prova.java che in realtà già se vado a prendere la classe main è già l'implementazione di lista voti list voti devo un attimo ritoccare qualcosa alla fine non faccio nessuna print chiaramente ma farò un return voti quindi proviamo a vederla tolgo qualche riga bianca così riusciamo a vedere insieme il codice quindi ho il metodo list voti che apre una connessione crea uno statement esegue quella query e poi elabora il risultato di quella query in questo loop in cui ad ogni iterazione aggiunge un elemento a una lista di voti voti.ad che poi viene restituita al chiamante ovviamente la return l'ha fatta dopo la connessione.close perché se faccio il return poi la procedura è finita quindi il metodo è finito questo metodo al momento segnala ancora un errore perché dice attenzione che non mi restituisci un valore di ritorno perché in effetti nel caso in cui ci sia un'eccezione non facciamo nessuna return magari possiamo mettere o un trousse qua dentro oppure un return null dipende come vogliamo gestire il caso in cui ci sia un errore quindi questo metodo fa così gli altri metodi faranno in modo molto simile cioè alla fine quei sei passi che abbiamo detto ci sono sempre in ciascuno di questi metodi implementeremo i sei passi cioè non c'è santo che tenga quindi sarà codice sempre molto simile chiaramente se faccio una select avrò poi il ciclo per prendere il risultato se faccio una select sulla chiave primaria beh allora questo while può trasformarsi in un if perché in quel caso avrò o 0 o un risultato quindi non è inutile fare un loop il risultato sarà solo una variabile non sarà una lista nel caso di una insert farò un execute update anziché un execute query e non ho la parte di codice che estrarà i risultati ma a parte queste variazioni che chiaramente dipendono dal merito della query che sto facendo alla fine la struttura è sempre la stessa faccio ancora un piccolo passo avanti perché visto che la struttura è sempre la stessa mi dà un po' fastidio questa parte qua dove c'è il database la url la password eccetera immaginate di fare copia e incolla in tutti i metodi di tutte le classi DAO e poi dire ma guarda se ti cambio la password e dovete andare a modificare in 370 posti allora a questo punto facciamo un passettino in più e creiamo una classe che io per tradizione chiamo dbconnect che abbia un metodo getConnection statico cioè alla fine l'idea mia è anziché chiamare getConnection su DriverManager che bontà sua ha bisogno di queste informazioni mi faccio una mia classe che abbia il metodo getConnection che già conosce queste informazioni faccio una piccola classe che è un metodo che delega quindi farò un metodo un public static connection connection di tipo javasql getConnection che non ha bisogno di nessun parametro perché lo sa lo sa già lei o essa o lui insomma non so come chiamare le classi quindi dentro avrò questa istituzione qua e questa istituzione qua quindi dbconnect dentro ha la definizione della url e la chiamata alla getConnection vera e propria e poi come la getConnection vera e propria può non gestiamo l'eccezione qua dentro perché ne sappiamo di come gestirla ma la ripropaghiamo rows SQL exception e devo importarlo chiaramente eccolo qua e vedi che l'ho chiamata bd anziché db da tabelti cos'è che gli piace ah ad return statement chiaro non ho ritornato niente return connection quindi definisco la stringa chiamo driver manager e restituisco questo 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 mi permette di far sì che nel mio codice risparmio un'istruzione ma quello non è il grosso ma soprattutto non ho bisogno di riportare la url in ogni metodo perché lo sa questa classe quindi torno nella mia classe voto butto via questa e qua avrò dbconnect punto get connection senza parametri quindi ogni volta che vogliamo una connection non la chiediamo direttamente al driver manager ma la chiediamo al nostro dbconnect per ora è una miglioria di poco o vabbè ci permette di condividere una stringa di connessione ma vedremo tra qualche settimana che in realtà avremo poi impareremo poi il metodo molto più furbo per gestire pool di molte connessioni e allora in quel caso ci basterà modificare la classe dbconnect e il resto dei metodi continueranno a funzionare perché non chiameremo più il driver manager ma una classe più furba allora proviamo a integrare questo dentro il commento e il resto perché non lo stiamo ancora implementando come cambia il nostro libretto adesso che abbiamo il metodo che mi dà la lista dei voti adesso torno nel model nel model libretto io la classe libretto dicevo nel costruttore creava un array list di vuoto vuoto scusate il gioco di parole lo modifichiamo e facciamo in modo che quando io costruisco il modello il modello vada a popolarsi allora qui ho due scelte uno posso dire che quando il programma parte si legge i dati e quindi lo posso mettere direttamente nel costruttore oppure nel caso in cui magari i dati da caricare siano voluminosi quindi richiedono tempo e non voglio rallentare l'avvio del programma posso mettere un bottone in più che dice carica i dati e quindi li carico in quel momento e quindi avrò un metodo separato per caricare i dati poi lì devo decidere se i dati che carico sovrascrivono quelli vecchi oppure si fondono e nascono poi i problemi per ora tanto è una query semplicissima velocissima possiamo dire che quando creo un libretto lui non si inizializza a vuoto ma si inizializza con i dati che mi sono salvato nel database quindi alla fine questo qui cosa farà semplicemente farà creerà una classe voto DAO da quella classe che abbiamo appena creato devo importarla chiaramente al packageDB e semplicemente chiederà di inizializzare la lista di voti con il metodo il risultato del metodo di stavoto quindi quando creo il libretto lui chiede al DAO che chiede al database i dati e poi torno indietro e questa è la list di nuovo non la sto più creando io ma la sta creando il DAO se noi a questo punto proviamo a lanciare il programma dell'applicazione grafica adesso non mi sta facendo vedere nulla perché noi purtroppo stampavamo sotto solo dopo aver inserito perché davamo per scontato che l'avvio fosse vuoto allora magari modifichiamo un attimo il controller in modo che mi faccia vedere il contenuto del libretto anche prima che l'utente inserisca un nuovo esame un nuovo voto quindi bisogna andare nel controller cosa facevamo noi per visualizzare facevamo questo this.model.toostring ecco questo qui va bene ma lo facciamo non solo quando aggiungiamo un voto questo era l'endel del bottone inserisci lo facciamo anche all'avvio ad esempio nel setmodel scusiamoci il metodo setmodel è il momento in cui il controller viene a conoscere quali sono i dati su cui lavora cioè la classe model che li contiene a questo punto il model è una classe che esiste già esistendo già il costruttore è già è già stato eseguito e quindi l'acquire è già stata fatta e quindi posso chiedergli i dati e li metto nella casa di test se è tutto vero quello che ho detto questa finestra parte popolata con il risultato di quella qui ok e poi se aggiungiamo qualcosa aggiungiamo una cosa un voto e una data compare qui attenzione compare solo qui non viene ancora salvata nel database dovremo anche salvare un database a questo punto se vogliamo che la nostra perché se no se chiudo il programma lo riapro questo nuovo esame che ho inserito ovviamente non ci sarà e allora andiamo a implementare il metodo createVoto e facciamo in modo che quando il controller chiede al model di aggiungere un voto il model a sua volta lo chieda al database oltre a tutti i controlli che il model deve fare tutti i controlli che il controller deve fare chiaramente quando è ora di arrivare al dato chiamiamo in causa chi per mestiere memoria dei dati cioè il database e la sua classe DAO che fa da interfaccia verso il database sono stufo di vedere il null vi dico come fare poi vi lo racconto meglio sulla data non ci manca ancora il campo data qua no? che noi avevamo in una classe tipo local date purtroppo non c'è un get local date ok? perché per motivi storci la libreria JDBC è vecchia non l'ho più aggiornata da anni ma nel frattempo local date è stata pubblicata e quindi la libreria JDBC non ha tutti i metodi che ci servono però un metodo get date della colonna data ovviamente questi due dati local date e date sono già a punto time incompatibili ma si possono convertire con un to local date quindi per ora prendetela per buona poi ci ve lo racconto con calma dedicheremo un'ora a piangere sulle date e sui tempi e quindi a questo punto possiamo mettere data sta un po' più bello è anche più bello da vedere data quindi a questo punto ci fa anche vedere le date ecco che avevamo inserito ok allora il contrario è fare la query di inserimento dove è nel mio DAO voto DAO sono già qua implemento anche il metodo creavoto vedete la regola che ci stiamo dando il modello non sa cos'è JDBC vede solo oggetti e liste e collection la classe DAO si sporca le mani e lavora con il JDBC ma non sa cosa sta facendo il programma principale offre solamente dei metodi semplici e una regola che ci diamo è la classe DAO è senza stato cioè non ha nessuna variabile privata qua offre una serie di metodi che possono essere chiamati quando vogliono non gestisce nessuno stato nessuna logica al di là della logica per eseguire la singola funzione allora inserire un nuovo voto sarà facile basterà scrivere una query qual è la query per inserire un nuovo voto? allora proviamo interattivamente a inserire un nuovo voto e vediamo che cosa mi dice se io vado qua e inserisco al più un nuovo voto 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 di prova a questo punto mettiamo 30 e una data qualunque ecco qua l'istruzione che rubo insert into voto tra parentesi i nomi delle colonne valios e tra parentesi i valori da inserire allora prendiamo questa e proviamo a metterla qua allora poi qua chiaramente l'idsequel è sempre molto conservativo nel senso che quando mette il nome di una tabella mette anche il nome del database a cui appartiene noi lavorando in un database solo perché la connessione l'abbiamo aperta su un database non serve i nomi delle colonne delle tabelle li mette sempre in questi apici inversi perché nel caso in cui quel nome lì fosse anche una parola riservata a SQL non la confonde quindi la viene sempre quotata che non serve però in questo caso visto che ci sono già io toglierei solamente questo libretto voti davanti perché è fastidio allora questa è la qui da fare ovviamente non con questi valori ma con i valori che provengono dall'oggetto vuoto che mi è stato passato allora fatemi andare a capo qui dai se no non riesco a leggere non ricordo male come si fa la formattazione qua ok e dai ho votato a capo e così ho andato a capo ricordandomi di lasciare uno spazio sempre allora qua ovviamente non ci metto voto di prova 30 e la data ma ci metterò i campi di V che mi arriva dal controller che mi arriva dal model quindi qua cosa farò farò esci dalla stringa rientro nella stringa con catena V.getCorso poi poi al posto del 30 cancello il 30 esco e rientro dalla stringa e con cateno V.getPunti e poi dove c'è la data no attenzione V.getCorso va tra apici quindi devo mettergli gli apici devo lasciarli li ho cancellati per sbaglio e anche la data esco rientro dalla stringa e con cateno V.get dataesame .to iso string to no come si chiamava no è già così no no scusate non ce n'è bisogno mi confondevo con javascript allora questa cosa qui è un delirio come potete ben vedere perché io ho una stringa che è l'istruzione SQL ma dentro questa stringa in alcuni punti ci devo iniettare dei dati che provengono dall'utente e quindi values aperta tonda aperto apice e poi il nome del corso per mettere il nome del corso devo uscire dalla stringa e con catenarci questo valore qui poi qui devo chiudere l'apice SQL virgola spazio fa parte della query queste chiuse virgolette mi fanno uscire dalla query perché poi devo aggiungerci il punteggio che è un intero quindi non ha bisogno delle virgolette virgola e poi apro le virgolette per mettere la data dell'esame che è una data ma va indicata comunque tra apici chiudo l'apice e chiudo la tonda del values è un delirio perché è totalmente illeggibile questa cosa qua ma molto peggio non è solo illeggibile è anche pericolosa perché è pericolosa è pericolosa per te lo aspetta cioè noi stiamo facendo una cosa di questo genere no? stiamo prendendo dei dati dall'utente il nome del corso e stiamo creando una query in cui a un certo punto aggiungiamo una variabile che contiene quella stringa quel nome quel valore è scomodo perché devo uscire e entrare dalle stringhe e Java non mi aiuta di sicuro ma a parte lo scomodo immaginate un utente particolarmente simpatico che nel nome del corso nel nome dell'utente in quel campo di testo dell'interfaccia anziché scrivere il nome del corso scriva questa cosa qua apice punto virgola delete asterisco from users o from votio punto virgola trattino trattino perché lui può scrivere sta roba no? se la scrive e noi facciamo quest'istruzione in cui andiamo a concatenare dentro la stringa quello valore che ha scritto lui stiamo facendo select asterisco from users where username uguale apice chiuso apice punto virgola quindi lui esegue una prima query select where username uguale stringa vuota e non ritorna niente punto virgola e poi fa delete asterisco from esegue la delete perché l'ho messa dentro la stringa che sto eseguendo poi attenzione qua c'è ancora un apice chiuso che dovrebbe darmi un syntax error ma il nostro amico è stato furbo ci ha messo un carattere di commento qua quindi sarà commento apice chiuso ma questo apice chiuso non viene visto quindi se io so come è costruita la stringa di query all'interno del programma e questa query va a interpolare inserire dei dati direttamente provenienti dall'utente significa che sto lasciando la porta del mio database aperta all'utente che con un minimo di malizia fa ciò che vuole mi ruba i dati me li cancella eccetera eccetera me li modifica allora questo chiaramente è un grosso no sia per i programmi fatti in java che a maggior ragione per le applicazioni web dove chiunque può anche fare centinaia di tentativi al secondo e trovare un modo per allora qual è la soluzione a questo la soluzione è non costruire mai uno statement concatenando pezzi di string oltre al fatto che è brutto e puzza è pericoloso e vabbè qui c'è gente che ha cercato di usare questo principio per fregare l'autovelox dicendo oppure vabbè c'è una serie di barzellette su queste cose qua oppure la mamma che ha chiamato il bambino in quel modo lì quindi ha zerato il database della scuola quando il bambino era rimandato o cose del genere ma vabbè qual è la la soluzione la soluzione è usare una classe un pochino più furba di statement che si chiama prepared statement un prepared statement contiene uno statement che viene costruito in due momenti in un primo momento si definisce il template dello statement cioè il formato indicando che in quel formato ci sono dei segnaposto dei placeholder dei punti variabili e poi si definiscono queste variabili separatamente senza fare nessuna concatenazione di string dicendo direttamente ad arrivare JDBC questa è la query e questi sono i parametri e ci pensa lui chiaramente a non far casino non confondere il valore stringa di un parametro con la sintassi e se quelli della query non confonderà mai un apice singolo pensando che chiuda un parametro invece lui capisce che è all'interno di quel valore quindi creerà un parametro il cui valore all'interno contiene l'apice in pratica è molto semplice noi costruiremo una stringa più o meno come prima ma dove ci sono le variabili i dati che devono variare mettiamo un punto interrogativo parametro 1 parametro 2 parametro 3 quindi questa ho proprio qua lo commento ma solo per ricordarci di quanto fa male anziché cancellarlo qui cosa mi manca ma che è un punto di riva dal fondo ok andiamo capo se vogliamo quindi ho una qualunque questo lo stiamo facendo su una insert ma vale anche per il select vale in qualunque momento in cui una query abbia bisogno di essere parametrizzata e adesso eseguo normalmente il mio codice quindi farò connection cioè implemento normalmente il codice connection con uguale dbconnect punto get connection questo punto lo fa arrabbiare perché vuole un try catch facciamogli mettere try catch a questo punto creo uno statement non creo più ecco la differenza è qua non creo un oggetto di tipo statement ma un oggetto di tipo prepare statement prepared statement che è sempre dentro java.sql e lo creo ovviamente non con con create statement ma con prepare statement e prepare statement vuole come parametro un template di query quindi è una query ancora incompleta mi dà il formato ma non ha i valori dentro e poi dovrò eseguire questo statement sarà un st punto execute in questo caso è una insert e quindi dovrò fare execute update no? ma quello chiaramente se faccio un execute update qua non funziona perché ci sono questi punti interrogativi che non hanno ancora un valore qui update perché è un insert forse una select sarebbe query è indipendente dalla prepare statement allora cosa devo fare? tra la creazione dello statement e l'esecuzione dello statement devo assegnare dei valori effettivi a questi parametri con dei metodi di tipo set se nel result set avevo i metodi get per prendere le varie colonne nel prepare statement ho dei metodi set per impostare i vari parametri e set in questo caso il primo ad esempio il parametro è un corso quindi è una stringa set string e ha due parametri il primo parametro è la posizione di quale punto interrogativo sto parlando del primo attenzione che sono numerati da uno se non sbaglio il primo parametro è uno quindi questo uno indica il primo punto interrogativo il valore da dargli è il nome del corso il nome del corso sarà b punto get course il secondo punto interrogativo è il vuoto che è un intero quindi settiamo come integer il secondo parametro dandogli il valore di b punto get punti sto estraendo dall'oggetto vuoto i tre parametri i tre valori di cui è composto e li sto infilando nei tre punti interrogativi st il terzo parametro è una data set date terzo parametro e l'oggetto sarà v punto get data esame qui devo fare una new date perché sono variabili sono classi diverse no non funziona vabbè non me lo ricordo lo mettiamo poi a posto per ora non mettiamo le date l'idea è estraggo dal vuoto i vari campi l'imposto al posto di punti virgola e poi eseguo l'update allora così sicuramente è anche molto più pulito vedo esattamente l'acquiri da fare e vedo esattamente quali sono i parametri che ci metto dentro senza dover fare schifezze e poi non corro questo rischio perché se qualcuno dentro corso scrivesse questa cosa quegli apici quei segni di commento non vengono interpretati come sintessi quelle ma come valore della stringa a questo punto questo metodo createVoto tanto per chiudere il cerchio lo possiamo richiamare dal modello ce l'ho in libretto quando facevo add dopo che ho fatto l'add o meglio diciamo così contemporaneamente a fare l'add nella lista posso farlo nel database quindi anche qua potrò fare ricordiamo qui siamo nel libretto metodo add aggiunge un voto se sono verificati una serie di controlli ok a questo punto io avrò un voto dao dao uguale new voto dao vabbè mi creo l'oggetto e poi farò un dao punto createVoto div quindi questo voto in questo caso in parallelo lo metto nel database e me lo aggiungo anche nella mia lista e basta nel senso che il controller non ha bisogno di sapere nulla spero per cui se io adesso eseguissi questo programma c'era il voto di prova aggiungo un nuovo voto inserisci beh ti pareva che non ci fosse un'eccezione che è di tipo ah beh certo parametro in una posizione 3 non è impostato perché non ho messo la data vabbè lo sistemiamo devo solo andare a vedere come si fa perché non mi ricordo onestamente ma non abbiamo tempo adesso di farlo lo correggo lo committo quindi ricordatevi sempre tutte le volte che una query ha dei parametri non fate mai concatenazione di stringhe ma usate sempre il prepare statement dimmi ma io la mia password l'ho chiamata root quindi più in chiaro di così non è un problema in teoria non dovreste fare la commit di una password a cui tenete su github perché il progetto è pubblico fino a quando sono dentro fino a quando non faccio commit è qua quindi quando faccio commit lo sto salvando nel mio repository e quindi nel momento in cui farò un push quella password va a server non si può collegare al turnabay che sta sul tuo computer però però sa che tu userai quella password lì nel computer se usate solo password che getta altrimenti bisognerebbe salvare in un file separato che non viene committato invece potrebbe se tu riusi quella password da qualche altra parte qualcuno può ok